bella ragazzi grazie su islam francesco bighi qui iscrivetevi al nostro canale youtube franca mentuno grazie su islam francesco bighi per questo canale mettete mi piace oggi devo ristaurare una bici che questo è tutto video completo bici che devo ristaurare ma devo veneciare la c'è la mia bici la cosa che faccio che dico ragà nissà vivi prima cosa ragà doi i cavalli Grazie a tutti. 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 bello. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie. 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 wait for one time 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 okay Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione